Il calcio al tempo del coronavirus. La Virtus Francavilla prosegue nel suo lavoro a casa con allenamenti personalizzati e circuiti di lavoro volti a testare la resistenza, visto che correre non si può. Poi le videochiamate Skype, messaggi su WhatsApp per capire come risolvere eventuali problematiche o aggiungere ulteriori esercizi. Intanto, con trasparenza e rispetto delle regole, la società bianca-azzura ha provveduto a pagare gli stipendi ai propri dipendenti, calciatori e non, un fattore da non sottovalutare, visto che sono già tre i club in Serie C a non averlo fatto e che probabilmente subiranno penalizzazioni in classifica. Il club, inoltre, ha fatto sanificare la sede di Via Quinto Egno ed è il convitto dei giovani calciatori, oltre che tutti gli ambienti dello stadio, operazioni non da poco, il tutto in attesa di poter tornare alla normalità.